Dal pannello di controllo di Windows XP apriamo connessioni di rete. Clicchiamo con il tasto destro del mouse su connessione rete senza fili e selezioniamo proprietà. Dalla nuova finestra selezioniamo la seconda scheda, reti senza fili, e assicuriamoci che la voce usa Windows per configurare le impostazioni della rete senza fili sia spuntata. Adesso clicchiamo su aggiungi. Ora dobbiamo digitare il nome da dare a questa nuova connessione rete. Noi abbiamo scelto il nome iPhone. Poi bisogna togliere la spunta dalla voce, la cave viene fornita automaticamente. In questo modo possiamo digitare una chiave personalizzata per la cifratura e la criptografia dei dati web. Confermiamo la chiave appena digitata. E spuntiamo la voce rete computer a computer ad hoc. I punti di accesso wireless non sono utilizzati. Una volta spuntata questa voce possiamo cliccare su ok. E la nuova connessione di rete è stata creata. In qualsiasi momento possiamo sia rimuoverla, cliccando sul tasto rimuovi, che vederne le proprietà. Adesso possiamo chiudere tutto e passare alla configurazione sull'iPhone.